Ciao, sono Elena Rocco e sono il segretario generale di Fondazione Radiomagica Onlus. Siamo molto contenti di essere oggi qui presenti alla prima edizione di questa fiera, Lettoria La Pari, e portiamo la nostra esperienza di una radio inclusiva, una radio che accorcia le distanze. Nel nostro sito radiomagica.org potete trovare come noi trasformiamo albi, distrati e libri in tanti formati, compresi video list e con la comunicazione aumentativa alternativa. Potete trovare mappe che parlano, mappe parlanti. Siamo felici perché crediamo fortemente che l'esperienza di questa fiera sia un modello, una best practice da esportare in tutta Italia e ci auguriamo, chissà nel prossimo futuro, magari anche l'anno prossimo, di portare questa fiera nelle regioni che frequentiamo di più, ovvero il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. In bocca al lupo! Grazie a tutti!